Come stanno andando questi saldi? Speravo meglio, molto meglio. Non lo so, forse la gente meno soldi, troppe spese, forse quello. Il tempo, il tempo, tutto. Meno afflusso quindi? Decisamente sì. L'inizio è stato incoraggiante, speriamo che continui così. Alcuni suoi colleghi hanno parlato di un anno un po' giù rispetto al passato. E' vero, confermo, i mesi anche della primavera sono stati difficili, molto difficili, anche rispetto all'anno precedente. E quindi aspettiamo che questo mese invece di saldi ci faccia recuperare. Il calo è stato in questo giorno perché una volta si partiva di sabato, ora hanno cominciato a metà settimana. Come regola sarebbe meglio averli fatti fra un mese. Invece purtroppo è così. Leggi italiane hanno voluto anticipare. Diciamo che non ci possiamo lamentare. Abbiamo anche molti stranieri e oltre che saldi comprano anche cose di gamma che non sono andati in saldo. Come sono partiti questi saldi? Sì, sì, sono partiti abbastanza bene, insomma, sono contenti. Così è così. Partiti un po' in sordina? Sì, decisamente sì, per quanto riguarda noi almeno. Per voi è penalizzante l'inizio di giovedì rispetto al sabato? Penso di sì, penso di sì. Perché c'è stata tanta gente fuori, ma come sempre tanta gente fuori non vuol dire tanta gente nel negozio. Poi vedo che la gente compra quello che gli piace, indipendentemente che ci sia il saldo o no. Mentre qualche anno fa cercavano più saldi, almeno questa è la mia esperienza. Ciao!